Come funziona la vita sociale post intervento? Se esci per un aperitivo, che cosa ordini? E se esci a cena, come ti comporti? Queste sono alcune delle domande che ricevo spesso e oggi vediamo insieme le risposte. Sono stato obeso per 20 anni, ma due anni fa ho trovato il coraggio di affidarmi alla chirurgia bariatrica. Grazie alla sleeve ho battuto obesità, diabete, ipertensione, apnee notturne, estetosi epatica. Da allora racconto il mio percorso in questi video per aiutare altri a trovare la loro strada per sconfiggere l'obesità. Se vuoi supportare il progetto, iscriviti al canale, lascia i like e i commenti, ma soprattutto condividi questi video su tutti i tuoi canali social. La risposta veloce a queste domande è non ci sono problemi. Si vive la propria vita sociale all'aperitivo, a pranzo, a cena, a casa di amici, al ristorante, ovunque sia, senza nessun problema. Certo, i primi due mesi dall'intervento ci sono delle diete un po' particolari, per cui le cose potrebbero essere da organizzare un attimino meglio, ma non sono impossibili. Nella fase della dieta liquida, se proprio vuoi partecipare e stare in compagnia con gli altri, perché il bello della convivialità non è mangiare, ma stare insieme agli altri, ti puoi tranquillamente portare da casa quella che noi qui al nord chiamiamo la schiscetta. Ti porti il tuo omogeneizzato, ti porti il tuo brodino, ti porti quello che devi fare e in quei primi 15 giorni te la cavi così. Poi ci sono delle varie fasi, la semiliquida, la semisolida, la solida e il mantenimento. In ogni caso delle fasi precedenti al mantenimento, ti puoi organizzare portandoti qualcosina da casa, oppure te la puoi cavare fuori, spizzicando qualcosa tendenzialmente di morbido. Ma ovviamente è una fase di passaggio, è una fase in cui si impara a conoscere il proprio corpo, magari non tutti si sentono a proprio agio ad andare in giro. Per quanto mi riguarda, sono andato spesso ospite da casa mia sorella, dove ovviamente c'è un'accoglienza molto più familiare rispetto ad andare al ristorante, mi sono portato le mie cosine e il problema si è risolto così. A un mese dall'intervento, ero già in giro a fare weekend, mangiando al ristorante, piuttosto che portandomi e cucinandomi delle cose in casa, anche lì senza grossi problemi. Si tratta di pianificare con un pochino di anticipo quello che devi mangiare rispetto alla tua dieta. Fattibile, magari non comodissimo, ma fattibile. Arrivati al mantenimento vero e proprio, in realtà quello che si mangia è lo stesso che mangiano gli altri. Cambiano le dosi, quindi quando vai al ristorante, dai un'occhiata al menù, ti fai un'idea di che cosa potresti aver voglia di mangiare e ordini quella cosa. Devi essere armato di pazienza, perché mangi lentamente, ma soprattutto devi essere spietato nell'avanzare. Quando sei sazio, fine. Quella è l'unica cosa veramente, veramente importante. Mangi quello che ti va, e quando ti senti sazio, stop. Che tu sia al ristorante, che tu sia a casa di amici, non devi farti nessun problema. Al ristorante tipicamente io mi soddisfo con un antipasto. Tipicamente l'antipasto, negli antipasti ci sono quelle cose che vanno bene con quello che era nella dieta di mantenimento, con quello che era anche nella dieta semi-solida e solida, e quindi tutto sommato, io prima sezione del menù che guardo è quella, e tipicamente sono soddisfatto con quella. Oppure guardo ai secondi. Della carne, cucinata in un modo semplice, facile da digerire, facile da mangiare. Attenzione se si ordina una portata come il primo o il secondo, perché sicuramente si avanzerà. Non abbiate vergogna. Grazie, sono soddisfatto. Fine. Vuoi scoprire come funziona davvero un pasto al ristorante per uno che è stato sottoposto a un intervento di chirurgia dell'obesità? Partecipa a uno degli eventi del diario della mia sleeve. Lì troverai me e tanti altri già operati che mangiano tranquillamente e potrai vedere con i tuoi occhi come funziona. Se sei interessato, compila il modulo che trovi sotto nella descrizione e riceverai via email le informazioni sui vari eventi nelle varie regioni d'Italia. Cene e pranzi a casa di amici. Magari avvisa il padrone di casa che non mangerai molto, ti porti avanti. Gli dici, guarda, io mangio pochino. Per curiosità mi sapresti dire che cosa prevede? Cosa prevede il pranzo o la cena? Così ti fai un'idea su quelle che saranno le portate, perché tipicamente quando vai a casa di qualcuno magari prepara più di una cosa per far assaggiare e per noi bariatrici diventa una specie di maratona. Invece se sai che cosa c'è, scegli scientemente che cosa mangiare di modo che tutto sommato non arrivi a sazietà prima di aver assaggiato qualcosa di tutto. Questo fa sì che fai onore al padrone di casa perché assaggi qualunque cosa, un po' di tutto e puoi dare la tua opinione e poi insomma godere insieme di quello che è stato preparato per te. Dall'altra parte non rischi di arrivare alla fine dell'antipasto sazio e di non toccare più nulla. Quindi c'è anche la possibilità di assaggiare cose sfiziose, cose buone, cose che non mangi tutti i giorni. Ovviamente siamo stati operati di chirurgia bariatrica, non siamo malati, non è che ci sono delle cose che non possiamo mangiare. Sicuramente siamo sazi prima, quindi le quantità saranno ridotte ed è sulle quantità che dobbiamo lavorare, non tanto su che cosa mangiamo o non mangiamo. Quando si mangia a buffet bisogna fare un po' più di attenzione perché non mangiando quello che si è da mangiare in un tempo tra virgolette limitato ma magari spalmando tutto quello che si mangia in tanto 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 tempo è facile spizzicare qualcosa, non essere sazi, spizzicare qualcos'altro, non essere sazi, spizzicare qualcos'altro e insomma va a finire che si scombussola un po' il senso di sazietà perché non lo si riesce a sentire subito ma lo stomaco non è proprio così vuoto e rischi di avere plugging o pre-plugging. A me è capitato e ti lascio un link qua sopra da cliccare così puoi andare a vedere come mi sono sentito e cosa ho potuto fare in quel momento. All'aperitivo? Beh, facilissimo, bevi qualcosa che non sia frizzante che non sia alcolico. Io tante volte trovo anche la simpatia del barman perché lo sfido in un certo senso a prepararmi un cocktail a suo gusto che non contenga roba gasata e che non contenga alcolico. Sono sempre stato sorpreso positivamente da quello che hanno messo insieme tipicamente usando della frutta usando delle cose dei gusti particolari ed è stato piacevole ogni singola volta. Non è obbligatorio bere lo spritz non è obbligatorio bere il prosecco non è obbligatorio bere la birra. Sono buone se capita un dito di birra se capita un dito di prosecco se capita un dito qualcosa non c'è problema ma un intero cocktail un'intera birra un intero spritz sono troppo per noi non ce li godremmo non sarebbe piacevole. Godersi il cibo godersi quello che beviamo quello che mangiamo è una cosa nuova è una cosa diversa e dobbiamo imparare a gestirlo in un modo nuovo non è migliore non è peggiore è semplicemente diverso. Uno spunto di riflessione non è mai stato un problema da obesi doversi giustificare perché mangiavamo il doppio degli altri? Perché dovrebbe essere un problema oggi giustificarci perché mangiamo la metà? Perché dovrebbe essere oggi un problema giustificare il fatto che non beviamo acqua o altro a un pasto mentre prima non c'era bisogno di giustificare il fatto che bevevamo tre litri d'acqua a ogni pasto? Se andava bene prima perché ne bevavamo troppo o comunque tanto non vedo perché non può andare bene adesso che beviamo poco o comunque meno quindi non vi fate problemi ognuno è giusto che mangi e bevi quello che ritiene opportuno e corretto nel nostro caso non si beve a tavola e nel nostro caso le porzioni saranno ridotte e si avanza è difficile una delle cose più difficili è imparare ad avanzare però se siamo arrivati alla chirurgia dell'obesità è perché in un certo senso siamo anche arrivati alla maturità di volerci un po' più bene e volendoci un po' più bene sarà anche più facile fare delle cose più giuste per noi anche queste cose piccole che sembrano banali ma non lo sono per nulla se preferisci togliere subito l'imbarazzo puoi fare come faccio io tante volte quando arrivo al ristorante spiego semplicemente al cameriere che guardi io non bevo a tavola grazie quindi non prendo niente non prendo birra non prendo acqua sono a posto così grazie mille oppure anticipo guardi io mangio veramente veramente una porzione minuscola quindi mi spiace ordinare questa cosa perché so già che la avanzerò basta fine in alcuni casi se c'è proprio un pochino più di feeling col cameriere addirittura dico guardi io ho fatto un'operazione non posso bere e mangerò pochissimo mi godrò quello che c'è da mangiare ma saranno piccolissime porzioni basta voglio vedere che uno viene lì e ti dice no no tu adesso devi finire tutto quello che c'è nel piatto non gliene frega niente quello che capita spesso al ristorante è che si preoccupano che non ci sia stato qualcosa di non gradevole di non gradito quindi ci sta dall'altra parte spiegare semplicemente in quattro parole che ho apprezzato quello che ho mangiato ma sono sazio così grazie mille un pensiero a quei poveri camerieri sconvolti durante i pranzi o le cene degli incontri del diario della mia sleep gastrectomy perché vedere lì una ventina di persone che hanno fatto l'intervento della chirurgia bariatrica che mangiano come dei canarini lascia un po' così a volte poi quando ci sono le tavolate miste fra chi deve ancora fare l'intervento e chi ha già fatto l'intervento si vedono degli estremi notevoli un paio di suggerimenti che possono aiutare la posizione delle forchette al ristorante così come chiudere il menù significa comunicare al cameriere che si è pronti a ordinare ci sono anche dei segnali che si danno con le posate le posate appoggiate sui bordi del piatto significa che sto facendo una pausa e che non ho finito di mangiare le posate parallele in diagonale sul piatto indicano al cameriere che ho finito di mangiare quindi questo già aiuta a segnalare al cameriere se sto facendo una pausa o se ho finito il mio pasto usiamole poi tanti camerieri leggono il messaggio e si comportano di conseguenza qualcuno magari ignora queste regole di etichetta di bontone e verrà a chiedervi se può portare via il piatto o se non avete finito fa niente ragazzi non vi preoccupate non è un problema no non ho finito mangio lentamente oppure guardi sì sì sono assolutamente soddisfatto e sazio grazie basta che problema c'è non fatevi problemi su cose che non sono un problema già ci sono i problemi veri nella vita non fabbrichiamoceli per niente vi prego per quelli particolarmente duri di comprendonio che siano parenti amici o camerieri non abbiate paura di dire chiaramente sono a posto così non abbiate paura non fatevi problemi l'ho detto anche prima essere arrivati a questo punto della chirurgia bariatrica per guarire da un grosso problema ad una grossa malattia significa volersi più bene continuiamo a volerci bene facendo anche quello che è necessario per farci rispettare nelle nostre esigenze basiche del bere e del mangiare se ho detto che non bevo non bevo per favore rispettalo se sono sazio sono sazio non insistere se insisti rischio di stare male se mangio troppo rischio di stare male lo so che prima avrei mangiato 25 volte quello che mangio adesso ma oggi sono una persona nuova sono una persona rinata mamma mia questa parola non ho mai sopportata eppure è proprio quella giusta sono diverso sono sazio grazie di avermi invitato grazie di avermi fatto trovare queste cose da mangiare le ho assaggiate le ho apprezzate sono a posto soddisfatto grazie il dottore gradisce un brandy prima di ritirarsi no grazie una buona camomilla può darsi no grazie mille comunque no grazie ho usata con latti niente grazie bene se il video ti è piaciuto lascia un like e condividilo su tutti i tuoi social se i miei contenuti per te sono stati importanti e utili lasciami un super grazie o abbonati al canale per sostenermi anche economicamente qua a vostra destra a mia sinistra trovi altri video relativi alla chirurgia dell'obesità mentre qui sotto trovi dei video relativi ai giri in moto che faccio con la fra e un altro canale dove si parla di tutto tranne che di moto e di obesità questi due canali mi aiutano a sostenere il progetto della chirurgia bariatrica quindi anche se magari non vi interessano le moto iscrivetevi al canale mi aiuta un sacco anche a continuare il progetto del diario della mia sleeve gastrectomy grazie mille ciao e al prossimo video